ciao bimbi buongiorno genitori questa mattina vi voglio dare l'idea e uno spunto per fare un lavoretto riguardante la primavera io ho iniziato a fare delle striscette con il pennarello verde a simboleggiare l'erba e ho raccolto come potete vedere qui nel mio giardinetto però potete farvi raccogliere da qualcuno chi va a fare la spesa se il papà va a lavorare gli fate raccogliere da qualcuno qualche fiorellino io ho delle margherite e del tarassaco i denti di cane che li ho nel giardino li raccogliete ve li fate raccogliere e li mettete da parte iniziate a fare l'erbetta nello sfondo e poi uno per uno potete attaccarli sul foglio sotto io li ho attaccati con una pinzatrice nella parte sopra che poi verrebbe in avrebbero in avanti fiorelline nella parte sopra ho attaccato il fiore con un po di nastro adesivo io ho già fatto ne ho già fatto una parte se non veniva troppo lungo voi potete continuare prendendo fiorellino attaccandolo nella parte bassa incollandolo lo scorcio nella parte alta li mettete dove più vi piace li prendiamo un altro giallo lo attacchiamo questo è così corto che va bene anche attaccarlo solo con la pinzatrice e poi mettete qua e là delle fogliette che vi piacciono io ne ho già messe due possiamo metterne ancora uno qui queste invece le attaccate con una colla stick semplice ne mettete un po sul foglio e andate ad attaccare la parte con le fogliette questo sarà poi il risultato vi fate ovviamente aiutare i vostri genitori che per l'erba sotto servono semplici penarelli perciò penarelli con la stick dello scotch e una pinzatrice e tanti fiorellini e tanta fantasia ciao a tutti ciao